Oggi è stato risolto il mistero su di chi fossero i resti mortali contenuti nella casa di Zinco rinvenuta durante i lavori all'ex convento dei frati minori a Santa Maria Nuova dopo la segnalazione di padre Silvano Bracci nell'intercapedine ricavata in quello che era il vecchio passaggio tra gli alloggi del convento e la chiesa. Beato Antonio D'Afano morto 1435 si legge sulla targhetta sopra la cassa in Zinco che conteneva i resti del frate. La cassa è arrivata al cimitero dell'Ulivo scortata dalla polizia locale dopo che era stata prelevata dal cantiere in via da Serravalle poco dopo le 9 di questa mattina. Ricognizione cadaverica blindata avvenuta dopo il dissequestro chiesto dal comune di Fano proprietario della chiesa dove era stata collocata la bara nel 1959 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione. Le operazioni sulla cassa sono durate un paio di ore ed è stata aperta nei locali del cimitero dell'Ulivo per consentire le attività svolte dal medico legale nominato dal Tribunale di Pesaro che aveva avviato subito le indagini coadiuvato da tecnici e dalla presenza dei militari del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Ancona. Sono stati ammessi a partecipare per il comune di Fano il vice sindaco Cristian Fanesi ed il dirigente Adriano Giangolini. Ora si attendono i risultati di laboratorio coperti però dal segreto istruttorio ma è pressoché certo che appartengono al corpo del beato avvalorando così quanto detto e documentato da padre Silvano Bracci il quale afferma che la bara in zinco con la targhetta identificativa è stata fornita dalla ditta di pompe funebri Tonelli di Pesaro che in via da Serravalle aveva all'epoca un deposito di feretri proprio di fronte alla porta del convento e pertanto il percorso da fare è stato molto breve. La salma a momento resta comunque nella disponibilità della magistratura che sta continuando nelle sue indagini. Ora svelato il mistero dell'identità si aprono però diversi scenari sul futuro dei resti del beato una volta che la salma verrà restituita all'ordine dei frati minori con i quali il comune cercherà una mediazione su dove ricoverarla e in che modo poterla restituire al culto dei fedeli. Anche su questo padre Silvano Bracci che oggi si è preso una bella rivincita nei riguardi di chi esprimiva forte scetticismo sull'identità della mummia auspica che il beato rimanga dove ha sempre prestato la sua opera ovvero affano.